Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, gli sto prendendo la porta a mia moglie perché stiamo andando a portare i miei bambini a scuola E siete bambini miei? Eh? Come state? Siete contenti di andare a scuola? No Siamo in ritardo vero amore? Sì, è tardissimo, sì, sì Siamo in ritardo ragazzi ma oggi è un giorno importante perché dopo con mia moglie stiamo andando a prendere un regalo per money Che ragazzi questo giro lo facciamo saltare all'impazzata Non ve lo dico adesso qual è il regalo quindi continuate a seguire il video mi raccomando E non c'è la p***a, vabbè fate il c***o che volete, ciao Allora Enea io e te abbiamo un problema però amore mio, dovevamo essere a scuola alle 30 e siamo un po' abbastanza lontani Eh? Quando la mamma ti dice di vestirti veloce perché te lo dice? Perché non ce ne frega niente arriviamo in ritardo figlio mio Eh buai E' colpa tua comunque se arrivi in ritardo eh Adesso io le diciamo alle maestre Non è vero Comunque sei bella anche al mattino, è incredibile quanto tu sei bella anche al mattino È bella poi, bellissima Cosa c'è là dentro? Cosa c'è? Cartierre esattoriali? Sì Oh mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate like se vi piace questo video e vi aspetto, vi aspetto Scusa io vorrei capire ma chi è che ha scorreggiato? Io È andata tu a scorreggiare perché c'è una puzza di c***a incredibile in questa macchina Oh No, è rosso È scorreggiato tu? Sì Cioè tu ci vuoi mandare a scuola così la mattina? Eh? Cos'è sta roba? Ragazzi comunque stiamo andando a prendergli un regalo a Moni ragazzi che oggi quando lo vedrà lo vedrete saltare in aria proprio Sarà, impazzirà per questo regalo, non sa niente lui Poi dopo lo chiamiamo e gli facciamo vedere la cosa ma poi gli dico che non ce li possono dare oggi e invece non glielo porteremo oggi quindi Restate a guardare il video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo video vi piace, vi voglio tanto bene e vi ricordo che Cosa hai detto? E vi ricordo che tutte le sere alle 9 e mezza ragazzi siamo in live su Twitch sul canale di Alvia quindi io vi aspetto sempre È verde, mi devi andare Ciao bambino mio ci vediamo dopo allora? Eh? No anzi ci vediamo lunedì ci vediamo Venerdì ci vediamo ciao amore Ti amo eh Ok ragazzi siamo arrivati fuori dal negozio e attenzione non è la farmacia per comprare di psicofarmacia Moni no non è proprio quello ma in realtà è questo il regno degli animali Perché oggi ragazzi stiamo per comprare un cucciolo di bengala ragazzi un gatto molto pregiato perché Moni è innamorato pazzo E oggi voglio fare una mega sorpresa che mi presento là con questo cucciolo qua e se Dio vuole ragazzi forse riusciamo a trovare il bengala bianco ragazzi che è rarissimo un gatto stupendo E ora andiamo a vedere se lo troviamo Lo vuoi anche tu un gatto? Non lo so Sono belli amore devi vedere se sono belli belli eh Andiamo a vederli No va che bello questo qua bianco però il là Cosa c'è? Cosa c'è? Cos'è che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ma guarda che bello quello che tu hai qui sotto così guarda che bello Ciao Guarda questo qua che bello tu Hai arrivato? Sì mi ha risposto Moni devo farti vedere una cosa sei pronto? Guarda lì Guarda lì Guarda quello bianco Che cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cos'è che c'è? Cosa c'è? Allora sono belli tutti e due eh Però allora quello questo qua frate è molto più bello nel senso che si vede proprio che è maculato hai capito? Quello bianco si vede un pochettino meno che è maculato Però guarda tipo questo qua Vedi che si No quello bianco diventa maculato dopo Ah diventa maculato Allora lui mi ha detto che quello bianco diventa maculato più tardi Da un anno e un anno e mezzo che è maculato più bianco Già da Gli puoi dire anche che diventa maculato domani Quale vuoi bianco o nero? Nero 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 Nero? Quello più scuro che c'è? Quello più scuro? Te lo prendo un cucciolotto però eh Per i cucciolotti Questi qua piccolini Vedi Ok dai Ciao Ciao Allora ragazzi abbiamo preso il cucciolotto Ha voluto il maschietto alla femminuccia Guarda che ha voluto la femminuccia Allora la femminuccia vuole lui Adesso ce la viene a portare che dov'è? Dove è andata? Sparita Si è nascosta E io ragazzi ero intenzionato a prendere anche quello bianco sinceramente Perché guardate quanto è bello Mamma mia Però quella lei cucciolotta non ce la dà quella Lui ci dà quella un pochettino più grande in caso del bianco Ma ragazzi sono bellissimi comunque Adesso come lo vede Mone ragazzi impazzisce Cosa guardi tu? Cosa c'è? Cos'è che c'hai? Ma non mi piace Va bene ragazzi adesso lo carichiamo nel trasportino E ce lo portiamo via Allora mangiagli dai solo questo A Bologna ci saranno? Si Allora monge o traine Ok Ah io ho chiuso traine o traine E poi le guste queste qua al naturale O di là solo al naturale Quindi mone ma c'è al naturale Ok? Secondo me è meglio della tua cucina amore Sto scherzando amore Di mischiate assieme ok? Sto scherzando Ragazzi l'ho una mamma e sta per partorire Guardate che pancione che c'è Cosa c'è amore? Cosa c'è? Stai per partorire o tu? Ma lei è dolcissima eh? Lei è proprio dolcissima Lei è bravissima e è bravissima Ebbene sì ragazzi in quel momento Siamo diventati padroni di un Meraviglioso Bengala Ciao amore cosa c'è? Dai che adesso andiamo a casa e giochi con Bea Tutti maggio Bene ragazzi adesso Tocca la parte più difficile ragazzi Perché è il momento del viaggio E mi farà impazzire il treno Ma ve lo filmerò tutto il treno Perché mi farà impazzire E non vedo l'ora ragazzi Ve lo giuro non vedo proprio l'ora di portarlo a Moni Perché Moni sto giro salta in aria ragazzi Sto giro lo faccio piangere Non l'avete mai visto Moni commuoversi Mi sto commuovendo io perché è bellissima ragazzi È troppo bello E io e mia moglie si è dovuti scappare dal negozio Perché sennò ci compravamo tutti i gatti E' vero amore Amore ma che bellissimo sto gatto eh Guarda quanto è bello Amore già lo stava ammazzando contro il pale Va bene ragazzi ci vediamo sul treno dai Ci vediamo dopo Ragazzi questa cosa qua è da documentare Perché guardate questo è il primo incontro fra Bea e Gatto Guarda guarda come mi so già Dea tu hai già preso gli schiaffi ieri sera eh E' emozionante questo incontro Tommy lo abbandonerà Cosa c'è tu Masì Cosa c'è Amore Cosa c'è Amore Chi sono queste bestie Bea Chi sono queste bestie Ma chi sono Tommy ha soffiato Tommy ha soffiato il gatto Tommy ha soffiato il gatto Cosa c'è Amore Ma ha ragione Cosa c'è Ha ragione Tranquillo Non rimane qua Amore Non è nostro Amore mio Sei tu l'amore della nostra vita Tranquillo Amore mio Amore mio Amore mio C'è il cane Il gatto è l'ora Ma avete sostituito No no lo portiamo via Vero piccolino mio Vero che andiamo oggi a noi Ma adesso ce ne andiamo eh Guarda non gli sofferi Bea mi sa che tu Sti Masì prendi tanti di quegli sbelli da lei Va bene ragazzi Adesso fra poco ci vediamo il treno Ragazzi sarà un viaggio Un viaggio della speranza proprio Sarà un viaggio tremendo Quindi ci vediamo in stazione Vi faccio un po' vivere il viaggio che farò E poi la reaction di Super Moni Quando lo vede ragazzi Moni questo giro Secondo me ragazzi Si mette a piangere Non sto scherzando Ma secondo me si mette a piangere Moni Quindi ci vediamo fra poco in stazione Ragazzi siamo arrivati in treno E quello di oggi è il viaggio della speranza Perché non l'ho mai viaggiato con gli animali O comunque ragazzi Prima Bea si è preso uno sbordone in faccia Che poi ancora non gli abbiamo dato un nome Quindi non sapevo neanche come si chiama la cucciolata Guardi quanto è bella ragazzi È meravigliosa Bea com'è? Ti piace la nostra cucciola? Eh? Guarda che bella che è Guarda È bellissima ragazzi Adesso non vedo l'ora di fare la video della Moni Non vedo poco loro veramente Il viaggio della speranza oggi eh Cane e gatto La prossima tappa è arrivare da Moni E farvi vedere il gatto Che sicuramente ragazzi A sto giro Moni farà dei salti Impazzisce Impazzisce ragazzi Impazzisce Ragazzi io per non disturbare sul treno Mi sono messo proprio dove c'è l'uscita C'è Bea qua poverina Guardate lei Guardate la nostra bimba Guardate questa bimba Bea 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 Oh Tissà se si ameranno loro due Che viaggio che sto facendo Guardate le nanti Guardate le nanti La stelle Guardate le nanti Reggiamo Scavo Qui Grazie. Dov'è papà, dov'è? Ragazzi sta arrivando male Sta arrivando male Ciao amore, ciao Io ho un regalo per te No, Bras, lasciala Che bella, tu sei bellissima tu Sei il mio amore, tu sei Che bella, con quelle zampine Amore io ti amo, lo sai che ti amo, io ti voglio troppo bene Hai gli occhi lucidi Ciao, ciao amore mio Sì, tu sei bellissima tu Vieni qua, bella, andiamo, vieni qua Ma io l'adoro, guardala già Basta, basta Io non esco più dalla stream house Ciao amore, ciao Ciao bella Amore, ma tu cosa c'hai? Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo del tecnolo, dove si fa su? È felicissimo ragazzi È diventato un cucciolotto, Moni È la prima volta nella mia vita che c'è qualcosa di mio Bea, ma si può capire che c***o di guinzaio che c'hai tu? Sai guinzaio quella artigianale? No, però guarda che bella che è È già innamorato ragazzi, c'è Moni che è innamorato pazzo Bea, tu stasera oggi da lei prendi tanti di quegli schiaffi Che già prima ti ha dato due o tre schiaffi Bea, sei pronto? Ma cos'hai fatto i capelli qui? È arrivata Bea Ma perché è arancione? Perché deve farsi i capelli blu È arrivata Bea Dai, lascia stare Bea, Bea dopo Guarda qua che sta fischiando Guarda qua, guarda qua un uomo membro No, vabbè Però è bellissima È femmina? Sì Ancora no Ancora non l'hai scelto? No Ma è bella Ma si può prendere? Sì, sì, sì Mi graffia Se la puoi scappare No, 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 mi graffia Graffia? No, no, no Metti però Bea in macchina No, no, non per quello Guarda è piccolissima Guarda, è piccolissima Ma questo guinzaglio? È il guinzaglio custom Capato Hazard Ma la devo prendere da qua? Sai che si apre così? Tutte e quattro le devi aprire Tutte e quattro Sotto, sotto Allora mi ha detto che in teoria Adesso che è in macchina La dovete tenere un po' in braccio Tanto fa cacca e pipì non ne fa Mamma Mamma che bella che è Guarda Aia, graffia Vai, vai Metti tutto qua Ma, me, tira Ma, fai l'uomo Aia, zvegna Baragicci Wow, wow Aia, zvegna Baragicci Wow, wow Mia, mia Aia, aia Forca di te le sei graffia Fa valissimo Ha distrutto Ti ha fatto male? Sì Ho prima che ha dato uno sberlone Tanto bella, bella Tanto bella oggi la bullizzerà di brutto Poverino Mi apri qua che metta la valigia Ma guarda come si nasconde Però è troppo bella Questa basta Aspetta, c'è una cosa anche per te Quindi la borsa Oh, quello che ti avevo chiesto Apri, apri Guarda che bella che vi ho fatto fare Martelletta marrone Oh, sono queste? Sì Sì One Aspetta E per vedere a che cosa serviranno Andate a vedere nel video di Tecnologica Uscirà a breve Perché ragazzi saranno Una bomba Ma che belle che sono Bello Questa è un po' brutta Non mi piace È una tua risoluzione che c'è online No, adesso ho messo la Ho fatto la No, vabbè Tu questa poi la prendi La metti sulla stanza Se col c***o Me la prendo nella mia stanza Sì Una volta che finito Certo Ma perché è questa? E tu mi hai dato questa No, fra Questa è da gaming Cosa no? Tu mi hai dato questa Cretino No, no Tu mi hai dato questa Sì Certo, io sto a fatto quel che mi hai mandato Ma perché è così? Perché la voglio così io Sì, ma è troppo pizzellata così Fa niente, metti così Non è ingrato Non è ingrato Perciò andate a vedere nel prossimo video Che ci sono andate Che cosa serve Siamo arrivati alla fine di questo video Il gatto glielo abbiamo regalato Ma ne Ti amo Vediamo anche la reaction di Cherry La reaction di Cherry La vediamo nel prossimo video Quando il gatto entrerà in Streamhouse Io ti chassi Grazie.